A casa, a casa, non vogliamo farvi venire male, mandate a casa, tenetele indietro. Silenzio, silenzio, giudizio Frigoli, siete ancora in tempo, tornate a casa, panne ne avrete ma non è questa la maniera. Abbasso i fornai che nascondano il pane. Voi altri milanesi per la bontà siete nominati in tutto il mondo, siete sempre stati le baccanaglie. Chiamate le bontà siete nominati in tutto il drone, sempre stati le baccanaglie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni a fare giustizia. Sì, giustizia. Sì, sì, miei cari, pane. Avrete pane e abbondanza. E viva Ferrer. Viva Ferrer. E viva Ferrer. E viva Ferrer. Che non ha fatto le cose giuste. E viva Ferrer. E viva Ferrer. E viva Ferrer. Adelante Pedro, si puoi des... Buono, signor. Adelante presto, con cuiccio. Sì, sì, buono, buono. Abbondanza. Lo prometto io. Aiuto. Per condurlo in prigione. Per dargli il giusto castigo che si merita. Si è saltato. Quello che protegge Fornai è il vicario di provvisione. Sì, è proprio il vicario. La colpa è tutta sua. Sì. Sono tutti bermatti. E è lui il colpevole. A morte gli affamatori. A morte Fornai. A morte gli accettatori. A morte il vicario di provvisione che li protegge. Sì, sì, signore. Sarà castigato. Lo condurrò in prigione. Sì, sì. Si è scolpato. Sì, giustizia. Lo condurrò in prigione sotto la mia guardia. Al castello. Per ablandarnos, per acquietarli. Questo lo dico per so bie. E stiamo sia quasi fuori. Anima.